E non potevo non fare questo video. Milan 3, Irlanda del Nord 0. Ops! Italia Under 19, 3, Irlanda del Nord 0. Zero lì, Camarda, Camarda. Blocco Milan vincente, perché col blocco Milan si vince già dai giovani. L'abbiamo visto con l'Under 17, campiona dell'Europeo Under 17 grazie ai 4 gol e un assist del giocatore proclamato il migliore dell'Under 17. Parliamo di Francesco Camarda, ma non contento, nonostante giocasse ancora 16 anni in una categoria superiore a 17, è passata anche all'Under 19. Cos'è che diceva la gazzetta dello sport dell'attaccante del Bologna? Cos'è che diceva? Diceva, come si chiama? Ebole, 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 Ebole. Che vabbè, Camarda deve aspettare per poter entrare anche nell'Under 19. Ebbene, dal primo minuto lo mette, doppietta. Milan-Irlanda 3-0. Ben quattro giocatori, Magni, Bartesaghi, un guerriero, poi con quella fascia in testa che si era presa la botta, sembrava veramente un samurai. Zeroli e Camarda in campo si è vista la sinfonia bella a strisce rossonere nella maglietta azzurra tricolore. Un'Italia stupenda, un'Italia che già ha il pass per non solo le semifinali dell'Europeo Under 19, ma anche per i mondiali Under 20 che si terranno in Cile il prossimo anno 2025. Un'Italia stupenda, un'Italia che già contro la Norvegia si era visto che dopo, nonostante fosse passata in svantaggio 1-0, poi aveva recuperato 2-1 proprio anche grazie a un gol di Zeroli ancora. Quindi Kevin, il capitano non solo della Primavera, ma probabilmente sarà anche il capitano di Milan Futuro. E ormai c'è Corradino nel nostro gruppo degli abbonati di Telegram che lo chiama il Gullit 2. Beh, effettivamente con quelle treccine un po' lo sembra, ma soprattutto è un centrocampista di un'intelligenza tattica spaventosa. Un'Italia brillante contro gli anfitrioni di questo europeo, sicuramente una squadra non certo di livello, l'Irlanda del Nord, un match valido proprio per il secondo turno, come dico 2-1 con la Norvegia, 3-0 con l'Irlanda del Nord. Un match cruciale proprio per i nostri azzurrini e a far la differenza è proprio il blocco Milan. Perché il blocco Milan, a differenza del blocco della nazionale maggiore di colori nero assurdi, è un blocco vincente. Abbiamo dei giocatori straordinari e questo è un lavoro che sta facendo questa società proprio con i nostri giovani, che quest'anno tanti di loro li vedremo anche nel Milan futuro. Dunque un vantaggio che arriva proprio dai piedi di Kevin Zeroli al secondo gol, come ho detto prima, in due partite. Però ovviamente la copertina va di risalto a Franceschino Camardinio, che a 16 anni fa già una doppietta al suo esordio da titolare. Ha il suo esordio da titolare in Ender 19. Sicuramente c'è da dire che anche i vari pafundi, piuttosto che oggi non giocava, ma Di Maggio è un altro che mi era piaciuto tanto, anche contro la Norvegia. Ha giocato il primo tempo, ha giocato meno rispetto all'altra volta, oggi ha giocato solo il primo tempo, per poi dare il posto ad Arder quasi inizio del secondo tempo. Mi è piaciuto molto Mannini, Marin è una sicurezza in porta, il capitano Lipani sicuramente è uno d'ordine lì in mezzo al campo. Mi è piaciuto davvero tanto, l'ingresso nel secondo tempo di Magni sicuramente ha dato una spinta in più sulla fascia destra. Una squadra ben messa in campo, poi è entrato anche sia al posto di Camarda proprio negli ultimi 20 minuti, sia del Milan. Quindi se fosse stato all'inizio lui erano in cinque in campo del Milan, davvero metà nazionale, è un sogno. Cioè questo è proprio il bello di godere della nazionale italiana, vedere mezza squadra di giovanotti milanisti. È la cosa più bella che può esistere, perché poi mazzulano, capito? Perché questi sono forti. Cioè la cosa bella è che con questa nazionale, con questi nazionali giovanili, ci si diverte davvero. E speriamo che davvero possano crescere in questo modo per poi diventare la nazionale del futuro. Ovviamente bisognerà aspettare degli anni, non è che adesso bim bum bam è già d'amblè. Però da qui a 4-5 anni, se queste nazionali come nell'Under 17, Under 19, Under 21, questo blocco poco a poco si porta avanti e crescono e giocano insieme, io penso che anche in 3-4 anni questi giocatori possano già andare in prima squadra in nazionale, anche perché i ragazzi hanno un modo di giocare davvero straordinario. Giocano a memoria, hanno passaggi corti, hanno anche delle inventive che manco in Serie A si vedono. Quindi davvero sono contento. Ero lì e ho detto lo faccio o non lo faccio? Ho detto no, lo devo fare perché sentivo proprio questa parte dell'amore verso i nostri ragazzi, verso questi nostri ragazzi che stanno crescendo bene. Vedere questi nostri giovani, della nostra cantera, delle nostre giovanili, del Milan, vederli con la nazionale, con la maglia azzurra, trionfare, vincere, convincere. Questo blocco rossonero è solo un orgoglio, non solo per noi milanisti, ma sarà un orgoglio poi per l'Italia intera, perché i nostri ragazzi, ve lo dico da sempre, dobbiamo coccolarceli, ce li dobbiamo cullare, perché loro sono il futuro. E quindi quando arrivano a un certo punto non facciamoli andare in squadre, squadrette, cerchiamo di far sì come il Milan, in questo caso il Milan del futuro, poterli avere insieme a noi sempre e farli crescere per poi portarli in prima squadra, come succedeva con i Franco Baresi, come succedeva con i Paolo Maldini, con i Filippo Galli, giocatori che sono nati nelle giovanili, per esempio, del Milan, e poi dopo sono diventati quelli che tutti conosciamo. Quindi niente, Italia, anzi Milan, perché se lo fanno interisti allora va bene, loro hanno fatto solo Inter e Albania 2-1, poi il resto era la nazionale che perdeva con la Spagna, pareggio con la Croazia, sconfitto con la Svizzera era contro l'Italia. La prima era Italia-Inter, invece no, io qua dico Milan-Italia, il Milan-Italia, dopo Milan-Futuro c'è il Milan-Italia, Under-19 contro Irlanda del Nord, Under-19 a questi europei, 3-0, Zeroli, Camarda, Camarda, e anche la nostra nazionale, dopo l'Under-17, anche l'Under-19 si tinge di rosso-nero. Buona serata a tutti e sempre Forza Azzurri e Forza Milan. Ciao! Ciao!